Ed ecco qua ragazzi il nuovo computer Nuovo computer, guardate qui che bestia Fantastico Nuovo PC ragazzi Nuovo computer Ed ecco qua le specifiche del dispositivo Ed ecco ragazzi la prestazione del computer C'è Forza RTX 2070 Disco 1 1TB Disco 2 500GB Memoria 16GB GPU Intel Core i7 Questo è il nuovo computer Schermo Uguale lo stesso quello che avevo al livello Tastiera Logitech E mouse Razer Il mouse della Razer E' una bomba E' una bomba ragazzi Un'altra bomba Ed ecco E' un'altra bomba Che sandra Di ecco Un'altra bomba Un'altra bomba atura